Volenterosi pieni di energia per migliorare la città. Un gruppo di dieci ragazzi, tutti provenienti da Fano, hanno aderito la scorsa settimana al progetto Ci sto a fare fatica, facciamo il bene comune. Un'iniziativa organizzata dalla Regione Marche e coordinata dal Centro Servizi per il Volontariato che coinvolge ragazzi dai 16 ai 21 anni con l'obiettivo di mettersi in gioco, conoscere nuove persone e sporcarsi le mani per rendere il proprio territorio un posto migliore. I ragazzi hanno fatto il bene comune perché in questo caso, questa settimana, sono intervenuti riqualificando tutte le panchine della Sassonia ed oggi anche quelle dei passeggi. Riqualificarle non significa semplicemente ristabilire un senso di decoro, ma prendersene cura ed è proprio questo l'obiettivo. Interrogandogli adesso, proprio in un momento di confronto, gli abbiamo chiesto che cosa si portavano da questa esperienza e davvero loro entusiasti perché hanno capito quello che è il senso di appartenenza ad un territorio. Ad ogni ragazzo verrà riconosciuto un buono fatica del valore di 50 euro da spendere in spese alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e tempo libero. Le attività si svolgeranno tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Hanno partecipato 5 comuni di questo ambito, non solo il Fano come comune capofila, ma anche San Lorenzo in campo, anche Mondolfo, Mondavio e Pergola. In ognuna di queste realtà i giovani si sono messi a disposizione proprio per fare e per occuparsi del bene comune, dimostrando anche di prendersi cura di quello che ogni giorno è sotto gli occhi di tutti e che magari viene trascurato. E' anche un modo per far crescere il loro senso di appartenenza alla città, alla comunità. Il progetto Ci sto a fare fatica continuerà fino al 4 agosto. Per poter partecipare è possibile trovare i contatti per ogni singola città sul sito dell'iniziativa. E' stato bello perché anche le persone anziane, mamme con i bambini sono venuti, ci hanno fatto i complimenti, è stato splendido perché alla fine è stato molto innovativo. Io consiglierei questo progetto a tutti i giovani, per se stessi e anche il bene pubblico. Bisogna farlo un po' più spesso.